c'è gente probabilmente si si sentito sentito sono senza armi ma io non ho cominciato su twitch per la voglia di cominciare su twitch semplicemente perché facevo troppe live su youtube e non partivano le feed ah è normale si si è per quello ho cominciato non avrei mai incominciato in senso non avrei incominciato così presto ha fatto bene scusi le ho rubato un po di legna non si preoccupi ah io mi sono fatto pulcire non ci do nulla si ma tanto lei deve ammazzare va bene che lei fa sul cildo lei è rimasto qua ok vamos ma ti stanno sparando no io parava uno ce n'è uno qua vieni qua cildini eccomi venga venga arrivo è uno la se si arrivo o forse è uscito e dietro di me è uscito stavendo ce l'hai il pump il pump quello brutto ho visto che così tutto trust sì perché una volta sponsorizzavo trust cosa ma lei è un po stilato gli ho fatto 81 vai uso tutto trust perché mi avevano fornito tutto cioè comunque non è la rubata non tu lui nell'avversario no io perché non sto sparando nessuno adesso gente qua sotto questo l'abbiamo demolito 18 18 sopra uno cerco di capire dov'è e non due mi ha lanciato pure la madre mi ha lanciato e beh la madre degli snap è sempre incinta andiamo io muoio probabilmente no 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 cosa muoio sto arrivando non ancora 80 blu è morto un colpo forse è andato nice nice perché sono un po migliorato con l'ultima volta che ci siamo conosciuti a pizzo e si si l'ho visto altra gente ancora gente ma dovrebbero essere con gli abbonati questi non ho più mazza a questo leo questo leo questo leo è sicuro era leo non so che si no 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 non era leo non era leo non era leo però non ero male ragazzo venghi qua venghi qua sto arrivando eccomi buongiorno lei usa mouse tastiera vero tesi con che tasto modifica f per caputana dovrei metterlo anch'io sulla f con che tasto fa i muri qui figlio sulla cuccia il cecchino però devo modificare uso 1 2 3 4 5 6 su le slot mediche band aspetta che mettono il mediculo intanto mediculo ci piace mai ci sono le bende a te che io porto sto cosa vado tranquillamente la lancia cosa cosa lancia dimmi un po lancia le granate credo perfetto vai ancora c'era me bianco non ho più mazza perché che bella mila festa complimenti bravo poi giorgio polzano grazie di cuore altri snappi ma basta ma sono gli abbonati questi sono doppiti in amici miei lo dico io sei tu buono aia cattivissimi questi si si sono sotto il a verrà manche snap a figa ramane leo che snappano a me mi rompono ora dove si dovevano si rama un po di meno leo si ce l'ho forte ma perché io non ho vita perché altro sistema ti sistema ti facci vedere che li vinci tu grazie giorgio polzano grazie di cuore grazie a tutti per le donation raga grazie a tutti quanto siamo arrivati con gli iscritti che non vedo ne mancano 149 per i 208 mila daia raga 149 perché devono snappare anche loro questo è raman no 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 calmo f calmo 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 che situazione di merda buono eh infatti si è sistemato bene ma slurk si è vabbè dai anche 200 in faccia certo che la madre è molto simpatica ma tenendo di brutto raga è fortissimo raga è fortissimo è fortissimo uno dei più forti giocatori italiani ragazzi il 100% no perché invece dello schermo non so io ho le richieste di te non bloccate ecco perché quanto siete cattivi o non so per niente male comunque due grazie anche tu non sei per niente dovresti anche pensare alla safe quando c'hai voglia ma quella è un problema ha ribaltato la situazione cosa ha calciato e festo raga perché non lo mette l'età ma non so irene la mia moderatrice ti dice che dopo questa partita ti ci vuole un riposo ora è stata brutta storia ma meglio più kill per noi giusto eh la k la odio io si anche a me non piace più tanto mira top buono questo 40 botana eva che modifica mamma mia no no non stare mai da lì dopo di altro che mi fa spaventare f però scusi mi si butta in volo libero mi si butta cambi il pano a tenerti nel nonno che nel mondo preferisco il combat però il nonno voglio abituarmi giudati non lo fa paura tutta la lobby si fa raga e festo è un amico luca lui spesso e spesso e volentieri posso salutare io voglio quando quando il tempo libero sempre per me è un piacere quando passi al cento per cento e festo è anche abbonato di pseudo raga incredibile andiamo vai grazie dimmi caro dimmi dimmi no stavo facendo immagino a tutti quelli che seguo se lo seguo ma buona grande grande perché io non posso su twitch porca vacca io non riesco mai non ho mai tempo di muo non ho mai tempo di fare niente se non stare dietro qua minchia è certo certo al festo troppo è morto il lavoro assolutamente quelle news che ti tirano male di tempo eh lo so e oltre live e carico è un video così dei gameplay eh ma perché voi siete pro player ed è giusto che facciate quello io faccio il mio è un canale che porta news leaks curiosità è troppo forte ragazzi troppo forte che bastardoni eh si è scaldato si è scaldato raga ho le mani calde adesso città bene città no 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 è ma però minchia e sono già un corso tutta è proprio arrabbiate arrabbiati sono molto rai perché ti vogliono killare e che mi è stuprati 3dcf dici che per quello che sono arrabbiati secondo me sì probabilmente pensavano di fare i grandi e invece al suocato in 13 e fix credo sia per quello credo sia per quello è una situazione quasi impossibile se si arriva un commento in chat che dice festo è in grado di vincere con 101 kg ma partite non tante 101 sono tante si può provare l'ultima si suicida dai ma no sei uscito da una situazione che non si sa come cazzo hai fatto no non lo so nemmeno io grande giocata il 200 del pump mi ha salvato se non ero morto se è il nonno il nonno se ti entra il colpo a full materiali quello salvato cosa di tipo 1.000 m3 ancora blu ventinove secondi alla safe e giusto ueda di budi e danni grazie 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 per la donation di cuore continuerò così persone lei bot attenzione attenzione grande boni 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 ancora 1060 spettatori con il festone tanta roba che cazzo di mira che c'hai neanche program che mi sparano ovunque sì 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 ovunque ovunque 170 devo mettere sulla f il tasto modifica gli squaglia raga non è che li ha mali squaglia vai fa girare la testa dice il mia ha conquistato la mia moderatrice apposato che le fa girare la testa 15 kill non lo so nello come faccia penso che sia un bug grafico in realtà cazzo ok no 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 per favore per favore voglio bene voglio bene per favore per favore questo è il migliore questo è il migliore o strega f mi dici velocemente un ciao danni baudi bella ciao danni baudi grazie festo sei un pazzo dopo ti pago grazie è stata una donation importante grazie sana non capiscono neanche dov'è figa ma non lo capiamo neanche noi che lo stiamo guardando assurdo assurdo no no più di colpi c'è un campione f non c'è un cazzo da dire minchia raga serve moment act perché fa girare troppo la testa ma questa kill ma questa kill è piaciuta questa è stata bellissima questa è stata paura questa è mamma mia raga ci fa sedere un attimino ci fa stringere le chiappe poi oplo apre il deploy e culo che culo si grazie dadi che sfortuna degli altri abbiamo dei materiali ragazzi moscia i materiali a festo non sono cazzi vostri 17 kill senti io non lo faccio mai e fiz ma cosa faccio poi lo butto sul canale questo video ma va certo non l'ho mai fatto è sinceramente però ci sta piano 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 non si baghi non si baghi qua non mi cada su quello fermo per favore no no ma non è quello che è difficilmente panico tanto che non lo capivo si trasportava ok 18 kill se fa le 20 bombe si dicono ne mancano due bombe allora e le faccio le faccio le faggia la chiamata raga e festo la chiamata ma incredibile fortissima troppo forte andiamo ardolo qua che ti fa e poi apre il paracaduto se l'avevi troppo presto ti ammazzano al volo se l'avevi troppo tardi ah si? questo non lo sapevo ma tutto vostro c'era uno dietro che ha detto ma che cazzo certo se mi stavano in testa è un problema quello si questo pesciolone mister pesciolone questo quello che vinto prima andato mister pesciolone è carica sta pompa mannaggia i pesci non si carica il pompa 19 kill per e festo metto anche il tuo canale eh quando carico se carico questo video non ti preoccupare no no ma lo faccio volentieri è una partita bellissima minchè questa merita di essere vista da più persone soprattutto nel momento in cui ieri si quello è il momento veramente quello ci sta da vedere raga secondo me è da vedere e da capire anche io perché è veramente bella partita ma questo questo è uscito di soppiato è uscito eccole qua le 20 bombe di effetto eccole qua eccole qua mancano gli ultimi due se li ha fatti tutti raga se li ha fatti tutti e grazie i re la coppia xxude e festo è il top perché xxude rintrattiene e intanto e festo ammazza quindi funziona bene funziona raga mi piace boom boom 21 1v1 si è fatto tutti raga è vero ma questo rapido non era da cento del teneci mezzo no eravamo in 23 te ne sei fatti 21 figa e uno sono morto io e scusa credo che fosse non più di 30 persone sicuramente ho startato che eravamo in forse 26 è assurdo è assurdo gli manca l'ultimo ho paura che mi sniperi quindi sentiamo un attimo ma non so dove sia puoi fare quello che vuoi con 21 bombe se mi chiedi che non c'è problema contro leo? è rimasto leo bella sei leo è una bella 1v1 no esca 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 non voglio che voglio che voglia così oh quasi quasi e l'alessio 22 kill per il campione e festo ragazzi non ho parole no 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 buono